Un viaggio negli odori e nei sapori d'Europa passeggiando per il centro storico in Piazza Duomo e Corso Federico II. Ci saranno la paella spagnola, le bistecche argentine prodotti dal Messico, dolci arabi addirittura, lavande e saponi dalla Provenza, la birra, quella belga e cecoslovacchia, i prodotti del Trentino e tante altre specialità dal mondo. Tante diversità che animeranno Piazza Duomo e il Corso Federico II per tre giorni dal 18 al 20 maggio con il primo mercato europeo del commercio ambulante del centro-sud. È la prima volta che il mercato arriva all'Aquila, grazie alla FIVA, la Federazione Italiana Venditori Ambulanti Nazionale, che ha trovato nel comune pieno sostegno. Dalle 9 alle 24 così Piazza e Corso si riempiranno di sapori per tre giorni e un indotto certamente importante, come dice il sindaco. Sì, un indotto importante perché intanto oltre agli espositori che dovranno mangiare e dormire è stata avviata una campagna di pubblicità su tutta la regione Abruz e contiamo di portare qui anche persone che vengono da fuori in maniera tale che scelgano magari di stare qualche giorno in più all'Aquila per ridare ossigeno anche all'economia della residenzialità e della ristorazione. Attività alle quali l'assessore alle attività produttive Alessandro Piccinini sta lavorando davvero alacremente con le associazioni. L'obiettivo, ha detto il direttore regionale di Confcommercio, è fare bene già da questa prima edizione per proseguire pro in futuro. Presente è anche il segretario regionale della FIVA nazionale Armando Zelli. Per il momento 80 espositori, poi si crescerà. Per ragioni di sicurezza non era possibile iniziare subito con i grandi numeri. Molto importante questo mercato anche per il presidente locale della FIVA, Alberto Capretti. Ci sarà anche un'aliquota di commercianti locali. Per noi soprattutto una promozione del nostro settore, ma anche un contributo tangibile a una città a cui noi siamo particolarmente affezionati. Il circuito dei mercati europei viaggia ormai da un decennio. Domenica scorsa stavamo a Padova, poi andiamo a Pordenone, alcune. Quindi è un circuito che gira tutta l'Italia. Per la prima volta scendiamo in Abruzzo, scendiamo all'Aquila proprio, ripeto, come segno di apprezzamento e di vicinanza ai colleghi aquilani.